Ciao ragazze, allora video giveaway, la Pupa mi ha mandato la nuova collezione, la China Doll e ho deciso di tenermi qualcosa per me e il resto di darlo in giveaway a voi, quindi in regalo a voi, così avete la possibilità di provarla insieme a me e credo in anteprima perché io so che esce a settembre questo mese, ma siccome ho intenzione di caricarlo il primo settembre questo video, spero di poterlo fare in anteprima, quindi spero di potervele regalare queste cose prima che escano in profumeria. Allora, la collezione appunto è la China Doll, che è una collezione ispirata all'Oriente, quindi allo stile Gesha, e io per voi ho scelto tre ombretti, io me ne sono tenuto uno, gli altri tre ho deciso di metterli in paglio per il giveaway, e allora c'è il numero, vi faccio vedere uno ad uno, il numero 01, che è questo, scusate, che è questo rosa, rosa salmone, questo colore chiaro, e come vedete sono molto iridescenti come ombretti, e sono degli ombretti che possono essere utilizzati sia asciutti che bagnati, poi c'è il numero 02, che invece è questo, questo è un colore molto particolare, perché è questo grigio con dentro del fucsia o del viola, comunque voi fate più, cioè credete più all'immagine e poco alle mie parole, perché io non sono tanto brava con il colore, però è un colore molto particolare, e appunto anche lui può essere utilizzato sia asciutto che bagnato, e il numero 03, che è invece questo grigio, questo grigio marrone tarpa, poi tra i primi c'è anche il luminist touch, che è questo illuminatore viso, e che va ad esaltare i punti luce del viso, quindi i punti strategici, rende il viso diciamo un po' più luminoso, l'incarnato più bello, più luminoso, questo è il numero 01, e vi faccio vedere come si presenta, eccolo qui, poi tra i rossetti ho scelto il 405, e questi sono dei rossetti volumizzati, io adoro i rossetti della pupa, perché sono, oltre a rendere le labbra più piene, più voluminose, sono sempre molto belli scriventi, belli pigmentati, rimangono molto cremosi, molto scorevoli, questo appunto è il numero 405, ed è, vedete si presenta così, quindi la confezione viola, ed è praticamente questo marroncino rosato, poi ci sono anche le quattro matite occhi, e sono delle matite occhi triplo uso, quindi vanno utilizzate come kajal, come eyeliner e come ombretto, e allora vi faccio vedere i colori molto velocemente, questo che è il numero 36, ed è questo marroncino, poi il numero 37, che è questo marroncino più scuro, il numero 38, che è questa matita blu, e penso che da una parte abbiano la spugnetta e dall'altra appunto la matita, e 39, che invece è questo viola, e infine in premi per questo giveaway ci sarà anche questo lip gloss, che fa parte dei glossy lips, sempre di pupa, e questo è il numero 203, e ho scelto questo perché secondo me sta molto bene con il rossetto, quindi il rossetto come base e sopra questo come lip gloss, e niente, questi sono appunto i premi, spero che vi piacciono, per partecipare come sempre dovete essere iscritti al mio canale, quindi vi lascio qua sopra il link all'iscrizione, tutti i commenti che troverò sotto questo video parteciperanno all'estrazione finale, e avete tempo 7 giorni da quando caricherò questo video, quindi io vi saluto, vi auguro tanta tanta buona fortuna, e vi mando un bacione, ciao!